Siete bravissimi, non avrei mai immaginato che sapesse muovere così bene le marionette Mi scusi ma adesso non posso ballare, magari più tardi Dai Barbazzo, lasciala andare Non so bene come funziona, proviamo a vedere Andando davanti alla banca per ascoltare la partita Grazie signora gatta, grazie mille Dunque per trovare l'orso Barry Devo cercare un posto con i pesci Gli alberi, che sia molto freddo Dove posso trovarlo? È davvero complicato Ma manca ancora qualcosa Cos'è che manca ancora? Incredibile, hanno risolto il puzzle È una pastinata Incredibile, hanno risolto il puzzle È un cavalluccio marino Incredibile, hanno risolto il puzzle È una conchiglia Ama costruire tutto ciò che trova smontato Vuoi dire che il castoro dispettoso Costruirà qualunque cosa al posto degli altri? Temo proprio di Sibo Amici miei, immaginate un mondo senza più cose divertenti da costruire Sarebbe così incredibilmente noioso Sì 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 Blush Ti è l'ora Sì, ci sono tornato Grazie per avermi fatto scendere, Jack Qualsiasi cosa per te, amico Allora, abbiamo trovato Jack e il gigante Siete bravissimi Non avrei mai immaginato che sapesse muovere così bene le marionette Mi scusi, ma adesso non posso ballare, magari più tardi Dai, Barbagio, lasciala andare Non so bene come funziona, proviamo a vedere Andando davanti alla banca per ascoltare la partita Grazie, signora gatta Grazie mille Dunque, per trovare l'orso e barri Devo cercare un posto di pesci Di alberi Che sia molto freddo Dove posso trovarlo? È davvero complicato Ma manca ancora qualcosa Cos'è che manca ancora? Incredibile, hanno risolto il puzzle È una pastinata Incredibile, hanno risolto il puzzle È un cavalluccio marino Pile, hanno risolto il puzzle È una conchiglia Ama costruire tutto ciò che trova smontato Vuoi dire che il castoro dispettoso Costruirà qualunque cosa al posto degli altri? Temo proprio di Sibo Amici miei Immaginate un mondo senza più cose divertenti da costruire Sarebbe così incredibilmente noioso ZOOMBERSY ZOOMBERSY 5 5 6 7 Impedire al grillo cigolante di far cigolare tutte le cose Fateci passare Come facciamo ad arrivare alla porta se tutti questi struzzi a testa in giù non ci lasciano passare? Forse dovresti cercarli in un posto con tanti pesci Tutti sanno che Simon ama mangiare i pesci Incredibile, hanno risolto il puzzle È un pesce spada Pirati, venite qui Devo dirvi una cosa importante Che cosa dirà il capitano Katie alle piratesse? Quindi che cosa dobbiamo fare? Devono risolvere un indovinello per raggiungere il tesoro Arr, come faranno i pirate ad attraversare e raggiungere il tesoro? Il ponte non c'è più Fateci passare Come facciamo ad arrivare alla porta se tutti questi struzzi a testa in giù non ci lasciano passare? Incredibile, hanno risolto il puzzle È un ancora Incredibile, hanno risolto il puzzle È un pesce